Como-Parma, partita di oggi di Serie A, termina con un pareggio, pensate che finisce con 1-1. Il Como gioca in casa, il Parma fuori casa, in Lombardia avviene il tutto a fare l'unico gol per il Como è stato Nicolas Paz. Per quanto riguarda invece il Parma, l'unico gol che c'è stato nel primo tempo, a firma di Ange-Johan Bonni. Le statistiche vanno a promuovere il Como rispetto al Parma, più possesso di palla, molti più passaggi per il Como, ed una precisione nei passaggi che a livello percentuale è più alta quella per il Como rispetto al Parma. Il Como quindi stravince e stravince bene? No, fa un pareggio, però gioca molto, 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 molto meglio rispetto al Parma, secondo quelle che sono le statistiche ufficiali dichiarate qua sul web. Grazie a tutti, il bio termina qua, una buona notte a voi tutti.